Siamo qui mentre ormai sappiamo che Sergio Chiamparino è diventato presidente della regione Piemonte con Alberto Barberis, vicepresidente dei giovani imprenditori dell'Unione Industriale di Torino. Chiediamo a lui che cosa si aspettano i giovani, soprattutto i giovani imprenditori, ma comunque gli imprenditori in generale, dalla nuova giunta da Sergio Chiamparino precedente. Prego. Allora innanzitutto facciamo i nostri complimenti al dottor Chiamparino per questo importante risultato. Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo sicuramente come giovani imprenditori un governo regionale stabile che abbia tra le sue priorità le tematiche legate al lavoro, soprattutto alla nuova imprenditoria, la creazione di imprese nell'agevolare la crescita delle imprese esistenti e anche e soprattutto favorire le opportunità affinché i giovani possano trovare delle condizioni e degli aiuti e delle possibilità per poter vedere le loro idee imprenditoriali finalmente crescere e non limitarsi alla dimensione minima delle start-up. E quindi in particolare un coinvolgimento su che cosa? Sui tavoli di lavoro, su tutti i problemi che spesso si pongono per le nuove imprese? Assolutamente sì, un coinvolgimento nei tavoli di lavoro, la volontà di ascoltare quelle che sono le richieste, le necessità dei piccoli imprenditori, perché poi la piccola impresa è il motore di fatto del territorio e quindi la possibilità anche di creare delle opportunità magari attraverso aiuti che la regione può erogare affinché praticamente questo fenomeno delle start-up, questo mondo delle start-up che fa sì che ci crea delle nuove opportunità in questo periodo in cui effettivamente la crisi economica è molto forte, sta cambiando radicalmente sia il mercato del lavoro che il tessuto produttivo locale, per fare in modo che questa crisi possa diventare effettivamente un'opportunità serve la possibilità che idee che magari nascono, come vediamo in Silicon Valley negli Stati Uniti, adesso non dico questi livelli, però il terreno è molto fertile da questo punto di vista anche qua e ci piacerebbe che la nostra regione effettivamente diventasse un po' un elemento, così diventasse una delle regioni più promettenti che offre delle opportunità a maggior valore aggiunto per i ragazzi o per i giovani che vogliono vedere sviluppare il loro business, la loro nuova impresa affinché queste imprese creino dei posti di lavoro e creino una nuova prosperità legata alle nuove tecnologie, all'innovazione tecnologica, eccetera. Oppure anche il premiare aziende esistenti con una storia alle spalle, ma soprattutto permettendogli la possibilità di differenziare, di creare delle nuove opportunità di mercato, di business, per offrirsi nuovamente sul mercato con prodotti competitivi ad alto valore aggiunto legati anche al territorio. Tra le nuove opportunità abbiamo l'Expo 2015 che coinvolgerà sicuramente anche tutte le imprese del Piemonte. Quale possibilità per le imprese di coordinarsi fra di loro per proporre, per esempio, offerte turistiche o altre offerte imprenditoriali? Forse la regione potrebbe svolgere un qualche ruolo? L'Unione Industriale ha già iniziato a creare dei gruppi di lavoro e a dare la possibilità alle aziende associate di potersi presentare all'Expo offrendo i propri servizi, i propri prodotti. È fondamentale però effettivamente, sarebbe auspicabile, anzi un aiuto da parte della regione, per fare un fronte comune, in maniera tale da poter aiutare questo territorio, le aziende che operano il territorio, quindi indirettamente anche le persone che ci vivono, a poter sfruttare questo importante evento, che ha avuto, come sappiamo dalle cronache, qualche momento zoppicante iniziale, ma che adesso stiamo, e siamo fiduciosi, che riparta con maggiore slancio e che ci permette effettivamente di sviluppare, di utilizzare, di sfruttare, anche se è un termine che molti reputano non positivo, però in realtà effettivamente sfruttare positivamente le opportunità, le ricadute che ha sul territorio questo evento importante. Quindi ci auspichiamo una collaborazione da parte della regione per fare fronte comune per il nostro territorio. Benissimo, speriamo che funzioni. Grazie. Grazie a voi.